... Oh no cara, è agro, è appunto doppio? Paola, chi sai che ti fai a fare le asole finché non la cavarai a imparare? Con piacere signora Beh, Anna, come ti sta? Ti trovi ben qua? Sì, grazie Ogni tanto mi torno un po' di tristezza, ma cerco di farmi forza Bravo E ti omeggio Sì Ecco 15 minuti di ritardo, veramente inammissibile Permette la compagna in motoscafo Vado sola, grazie Non si rende conto che non hai neanche il caso di farci vedere qui a discorre? Scusi, ma io non so più cosa fare per riuscire a parlarla Non voglio più vederla, non voglio Io non riesco a capirla, ma cosa c'è in lei da renderla così ostile verso di me? Non ho alcun motivo per rivelarle i miei sentimenti Mi lasci in pace, la prego Aspetta Le dovrei dire che... Parti Che non potrò mai dimenticare quel giorno sulla banchina dell'arsenale Non avremmo dovuto incontrarci quel giorno Quello per lei fu un giorno di lacrime, lo so Ma si direbbe che un altro motivo la spinga ad evitarmi Pensa anche lei che mio padre sia il responsabile della disgrazia? La prego Il mio vaporetto Ma no Oh, si è sporcato Accidenti, ma perché non mettono il cartello? L'hanno messo Non ci voleva, doveva andare al concerto Mi dispiace, è stata tutta mia Adesso dovrò mancare Aspetti, forse...